Amichevole contro il Martina, formazione di Serie D, finisce 2 a 2. Un buon risultato che sicuramente fa morale, ma al di là del risultato positivo, buone indicazioni ancora per Mr. Quintiero. Sì, il risultato come ho ripetuto anche con la Paganese e con gli altri test non ci interessa, siamo in fase di preparazione, però sicuramente fa morale perché contro una compaggine importante, l'anno scorso lo ricordiamo, sono arrivati i secondi in un girono difficile, sicuramente ci fa continuare a lavorare con entusiasmo. Si vede già la mano di Mr. Quintiero con una squadra che cerca sempre di costruire dal basso, di arrivare in porta con il gioco. A che punto è la preparazione? Sicuramente stiamo dando ai ragazzi quei principi che piacciono a noi, è normale, siamo ancora lontani dalla miglior polisportiva, però i ragazzi mi stanno dando disponibilità, si impegnano tanto e quella è la cosa più importante. Ampie rotazioni, con due schieramenti praticamente diversi tra il primo e il secondo tempo, ma risposte praticamente uguali. Sì, sì, questa è la cosa più inconvortante, i ragazzi sono a disposizione al 100%, chi gioca gioca, chi entra entra, fa benissimo e questo è lo spirito che vogliamo in questa nuova stagione sportiva. E si vede anche di più, ancora di più o meglio, la verva, la qualità anche di giovani che facevano parte nello scorso della Juniors, Cilentani, sui quali la società crede e punta molto, insomma i vari Salzano, Magno, lo stesso Di Mauro hanno fatto bene. Sì, sì, Salzano, Magno, Di Mauro, i ragazzi della Juniors, Gentile, De Cono, Petrosino, no, stanno facendo tutti bene. Siamo una squadra molto giovane, però i veterani li stanno aiutando e con calma faremo crescere anche questi ragazzi.